Un ruandese e due keniani si sono aggiudicati il podio della 28esima corsa del Saracino, la tradizionale gara podistica che si svolta ieri per le strade della città, tagliando il traguardo in Piazza Grande. Il primo posto se l'ha aggiudicato Jean-Baptiste Simu Keka della GS Orecchiella Garfagnana, che ha totalizzato un tempo di 38 minuti e 6 secondi. Dietro di lui, dopo un combattuto sprint, Paul Tiongic della Farnese Vini-Pescara con 38 minuti e 8 secondi e Matthew Rugut dell'Atletica Potenza Picena, che ha fermato il cronometro a 38 minuti e 43 secondi. Il primo tra gli arettini è stato Alessandro Annetti della Policiano Arezzo Atletica, che si è classificato quinto con 42 minuti e 9 secondi. Lucia Boncompagni, sempre per la Policiano, è stata la seconda fra le donne, preceduta dalla keniana Priscilla Kimitei dell'Atletica 2005, in diciannovesima posizione assoluta. Quest'anno è cambiato il percorso della gara e circa 650 podisti sono partiti alle 9.30 da Piazza Grande e hanno corso per le strade del Centro Storico, la Fortezza, il Prato, Corso Italia e Piazza Sant'Agostino. Il percorso, interamente chiuso al traffico, prevedeva due giri nel Centro Storico per una distanza totale di 12 chilometri e mezzo. Così il cuore di Arezzo è stato invaso dagli sportivi che hanno poi tagliato il traguardo facendo ritorno in Piazza Grande. Numerosi gli arettini che hanno seguito la gara dai lati delle strade cittadine.